Partito da zero è arrivato a 5.000, beh non saranno tanti direte voi, però questo canale inizialmente è partito un po' per gioco e adesso è diventato parte integrante della mia vita. Cos'è stato questo canale per me e per voi? Questo canale è stato il mio trasmettere, il mio concetto, il mio modo di essere interista, perché essere dell'Inter non significa stare seduti su una poltrona, vabbè c'è chi mi risponderà, ma io abito a 1.000 km da Milano. Ecco, questa è stata la mia missione, cercare di dare l'opportunità di vivere lo stadio a ogni singolo tifoso dell'Inter. Grazie a tutti! Spero che i primi 5.000 si siano divertiti, aggirci e aggirci e aggirci e aggirci e aggirci. che mi abbiano gioito, sofferto e lottato con me. E non dimentico che questo canale mi ha regalato nuove amicizie virtuali che adesso fanno parte della mia quotidianità. Dulcis in fundo, questo canale mi ha permesso di far parte della prima live nella storia della CN69. E niente ragazzi, ancora grazie da parte mia e da parte di Bob. 5.000 iscritti, non ci dobbiamo fermare, non vi dovete fermare, ne dobbiamo fare 50.000. Eh ma Manuel, adesso ti stai allargando. No ragazzi, più si cresce, più cresce il canale, più contenuti si possono portare. E con la speranza che ci riportino allo stadio ragazzi, perché ci manca e molti di voi mi scrivono Manuel, quanto mi mancano le tue trasferte? Io che abito in Sicilia, piuttosto che in Calabria, piuttosto che nel Lazio, che non posso andare, o io che piuttosto ho tre figli, piuttosto che ho un lavoro, soprattutto sabato e domenica, eccetera eccetera, grazie ai tuoi video riesco a sentire l'atmosfera di quello che può provare un tifoso allo stadio. Quindi ragazzi, spero manchi poco per la riapertura e avanti Inter, avanti Curva Nord, ricordatevi. Passeranno giocatori, annate e le società, ma noi saremo sempre qua. Ciao a prescindere da tutti, l'Inter siamo noi.